se state vedendo questo video e non è natale o semplicemente non mi frega un cazzo qua sei minuto per andare direttamente al video per tutti gli altri buon natale è un video molto lungo lo so però ho riassunto tutti i migliori momenti dal 22 dicembre dell'anno scorso fino tipo al 10 dicembre di quest'anno ragazzi è stato un bel anno spero di arrivare a 1000 iscritti entro la fine di quest'anno sarebbe figo comunque dai spero di arrivarci e basta a 1000 iscritti alla prossima lasciate un like iscrivetevi e condividete ora ora no no dai fradio no grillo oh shut the fuck up you little nesbitch you ever do when a little tour ride like this thinks he's gonna cuss us mate fuck off fuck off you you fucking idiot go play punk or tetris come on is it all you can say you fucking idiot you fucking idiot mate get some bigger fucking balls i say only the truth man and this is the truth i have to say nothing else man why are you in this game if you're gonna fuck because i want to win but you're a fucking idiot i can win if you're a fucking idiot bitch you're fucking dead shut up you fucking idiot why are you fucking idiot shut up you fucking idiot you're a nonce bitch you fucking idiot you have to die you megda you long uh you can fuck with wrapdolo you idiot you can fuck with wrapdulo you idiot you can fuck with rubdulo Convincilo che hai sbagliato Con le labbra fucsia Gliene invio così dai Gliene invio It's a You're fat Find a job Fucking idiot Improvio skills man Listen to me No Listen to me Fucking idiot Shut up you idiot You have to learn from me you asshole Oh you're so fucking retarded At least I'm the second and I die after you man If you have one more kill than me I'm mentally challenged I have one more kill exactly So I'm better than you Fucking I have one more kill I have more kill, I have more point, I'm better VINCO IO Guarda che cazzo ci cazzo Ciao ragazzi Sia Due tinta due Che è successo? Due tinta uno Ho vinto Ho vinto Ma che cazzo Ragazzi ho vinto Ho vinto Ragazzi ho vinto Start Facciamo così ti prego Una partita posso fare Io non ho capito che cazzo dobbiamo fare Dunque già mi metto la visuale capovolta sinceramente Così subito via Ho un'idea Partiamo con Ma non basta con questa idea Allora ora Partiamo subito con la visuale capovolta Oddio Oddio no Compaio E chi vince Che arriva in fondo Può giocare normale Se non volete a fine partita mi regalate 50 euro Ah io ho fatto due video a testa in su così Ma tu sei tutto strano Tu sei storto a me lo tuo Tu sei storto proprio di natura Sono perfetto nella stortezza Perché comunque sono perfettamente capovolto Comunque sto Ho fail Io ti ho visto Eravate tutte e due Che stavano le diranno e vogliono macchina No let me go Let me go A proposito appunto Ti lo fa un'altra punta Aggressione da pubblico ufficiale Scusi Please let me go I will make you a powerful man I have contato in mafia In prigione c'è il cesso No my brother Please my brother Ah ragazzi mi raccomando Puoi cadere le fatture? Ah Yeah sure man Sure sure Oh Sì È uscire Non lo so Così a cazzo Cazzo What up man? Chia Shut up man Shut up man Shut up man At least I have a one kill And now come on man go play barbie girl in a barbie world shut up i'm not a fucking man stop saying man it is fucking sexist i am a fan go play barbie girl man go play barbie girl you fucking name you sexist motherfucker is that you dead again oh dear you're dead come on man come on come on come on is that all you fucking say come on come on man oh fucking either go play barbie girl man shut the fuck up are you serious i'm a barbie girl mate i'm not a barbie i've got more balls than you bigger balls than you get come on send me a photo of your balls put off my balls ha 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 you must not know what a woman is i'd love to see what your country off from me barbie games go play barbie games because you're a female go play barbie girl ciao vorrei vuoi capire come fare per usare le inbox su warzone ho visto io video ma non ho capito se potesse aiutarmi grazie non hai capito non hai capito come si carica un leak dal mio video ma no ma non riesco a crederci ma come è possibile sento sempre parlare di questi cheat volevo provarli vedere come sono perché mi sono stancato di vedere tutti questi cheater e quindi volevo diventare come loro volevo vendicarmi ma baffanculo io lo faccio perché così almeno sai se trovo dei cheater ho cheat anch'io e quindi ci lotta alla pari sono stupido mi diverto con i cheat faccio un account smart mi scarico i cheat lì e così li provo quando mi va mi diverto che bello che qualcuno ti tirasse un pugno in faccia ti faccia ti picchiasse a sangue cioè il video inizia con questo è un video troll senti non ho capito bene come si scarica nelle hack ho visto video di fretta ma va è scritto lì in grande gigantesco questo è un video troll ma questo è un video troll cosa non ho capito allora sei idiota vai 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 oh my god 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 siamo covema passare all'infinito ti prego che cazzo è? mettimi su siti da scooter che cosa sta succedendo che cazzo è? compra anche te ti prego oh i modi abbiamo giànap di la volle dedicazione Che cazzo sta succedendo, ma che può, dove eravamo dire le canzioni Via, così, che cazzo sta succedendo, e uno è passato ha detto, eee, eee, guardi Scooter, che cazzo è sta roba, che cazzo questo serve il roleplay eh, ma non è un pezzo Ma abbiamo avuto culo stavolta, essendo che la fortuna è una bilancia, vuol dire che moriremo malissimo, oh ecco, ecco, ha 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 ha, appena l'ho detto eh Grazie al fatto che strisci con il meos mora, ho potuto sconfiggere l'unico nemico che non potevo battere, la morte, no, no, non è vero, io non ti credo, tu hai davvero credito la questa era professia, nato per fare grandi cose, eee, ah ha 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 Era solo un modo per darti forza, e rendete adatto all'assorbimento Per tutta la mia vita, io, ho creduto che i miei genitori fossero morti in guerra, ho creduto che tu fossi mio nonno, e' da quando avevo 3 anni, che hai iniziato a darmi lezioni, mi hai Mi è sempre tornato lontano da tutti. Mi rendeva triste essere diverso, non avere genitori, non avere amici, ma andavo avanti perché credevo che tu lo facessi per il mio bene. Perché credevo che fossi davvero speciale. E invece ero tutto piano per uccidermi. È arrivato il momento di fermare questa pazzia. Non soffrerà più nessuno come ho sofferto io. Tu chiedi davvero di potermi sconfiggere? Chi è questo? Ha una posizione che mi ricorda un sacco dei giochi che ho già portato. Mi ricorda qualcuno. Oh cazzi, mi ricordo! È lo stesso di Strange Encounter. Luigi! Grande Luigi! Amore, il lavoro chiama. Come cambio veicolo? Ma che è? Ma cos'è sta? Perché la mini? Ma perché la mini? Ma fanno schifo! O slittano in un modo, se no è di stare sul ghiaccio. È lentissimo! Io scommetto? Si può scommettere sulla perdita? Voglio scommettere sulla perdita di Gaga? Posso scommettere sulla perdita di Gaga? Posso scommettere sulla sconfitta di Gaga? Posso scommettere sulla sconfitta di gaga. Ma è la seconda volta, si tende il bimbo. Posso scommettere sulla sconfitta di gaga. Posso scommettere sulla sconfitta di gaga. Ma sono sempre. Posso scommettere sulla sconfitta di gaga. Ma se magari entriamo in un bordello per interrogare una persona in cui magari c'è una scena porno, te dobbiamo fare voce a noi la voce maschile, fare la voce femmina. Cosa? Ti facciamo fare la voce della donna. Cosa? Oppure la puoi fare anche te la voce maschile. Ti picchio e ti stupro. Non pensavo che le mie vecchie spalle tornassero a brillare. Sia un orgasmo a paura. Non pensavo che un altro riuscisse a usare il vero potere delle mie spade. Beh, in fondo sono sangue del tuo sangue. Hai bisogno di un calcio in culo. E' ora di farla finita. Ah, è interessante. Va bene allora, così che la metti? È stato fin troppo semplice. Il mio male sta finendo. Non riesco più. Non può finire così. Non finirà così. Cosa? Sei il coglione. Ah ma sei italiano. Ah. Italiano di merda. Tu sei attardato proprio. Ma io non darei gli spaghetti. Senti, dove cazzo stai? Io non sono italiano. Io lo sai, sei marocchino. Vengo dall'inferno. No, in inglese fai più scenico, in inglese fa schifo. Vabbè, comunque tua madre è stronza. Così a caso. A caso. Strimmando sei un scemo cosiddetto. Ah no. Ma come erano impostori? Ti ho seguito per tutto il tempo, Frasso? Perché non mi ha ucciso prima? Ma non ho seguito perché io volevo farti giocare. È troppo gentile. Tu mi ha fatto solo me. Io mi fidavo di te. Ma che io mi fidavo di me? C'è Joe senza testa, lo vedo. Senza testa. Fai lo screenshot. Oh my god, che basta. La cocaina fa male. Vabbè. Anche io! Anche io! Senza testa! Aspetta, aspetta, stai fermo, stai fermo, stai fermo, stai fermo. Ma che cazzo? Oh, non gli possono fare headshot. Dai, buono, buono. Ciao ragazzi, siete pronti per un griffing? Io griffo il tuo match, ragazzi. Siamo perdonati insieme, ok? Stai zitto. Ma perché? Sì, ma perché? Sì, sono tritartato cromia. Perché gioco con te? Sto giocando, sorry man. In ogni modo, ti piace il griffing? Ehm, ti piace il griffing? Ma perché? Solo una domanda. Non... Non sei normale... Nooo! 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 Ehm... Why he quit? Why... Why you kick him, man? Yeah, I kick no one, ragazzi, I kick no one. Ok, he's gonna come back. Krik entra! Oh, I'm sorry man, we have to start. Nooo! Che erano tutti e tre amici! Che palle! I piani non sono andati come previsto. C'è un grande problema. Ma per grandi problemi servono grandi soluzioni. Per grandi soluzioni servono grandi eroi. Per favore, Billy! Per favore, Billy! No, te la puoi fare! Billy, lo schifo! Billy! Billy! Are you sure about that? Nooo! Pensavi di prendere Billy! Ma invece no! Sei rimasta mani vuote! Ma Billy! Sa di poter credere in Rebecca! gehen are my second language. Cooooo black! il tempo non si ferma quando cambi personaggio! ehm Piazzone esplosivo. Però Cristo di un Dio! Sei là c'è l'animazione no? Cuureti! Che rianimami! No ha l'animazione! Cosi la sprechi Bhaon c'è un G4 Tu sei un C4 Sì, quanti ne vuoi? Mi dai uno Allora, attento che te lo metto su per il culo alla prossima Mi dai uno che mi servono Come lo vuoi? Giallo, rosso, verde Mi li prendo io, ora se ne ho due Sali Sì, sì, su, che l'ho sentito Il granata sopra Va bene, tranquillo, eh, tanto sei bloccato Non puoi uscire Qua dentro non mi stanno bene, rega Non puoi uscire Oh, ok Ok Eh, vabbè Guardalo, guardalo Con la salsiccia Stavo facendo campeggio questo Con la salsiccia in mano Vabbè che puoi detto così, vabbè Mi stavo aspettando così tranquillo Con la tendina Con la medaglia da boy scout Ok, bella a tutti ragazzi Sono Gabbox Per ora la skin È Steve Ma fa niente ragazzi Fa niente So perché mi cambia l'inventario Devo Cioè Sono in 1.16.2 Ma Vi giuro che clicco la rotellina Ma cambia dopo Dopo un po' Mi sono fermato In 1.13 Ma in all'ultima sopravvivenza Eh sì Purtroppo la crack Dell'ultima versione Non era disponibile È iniziato in 1.7 Credo Fatemi sapere Voi se giocate a Minecraft Se sì Che versione avete iniziato Sapevate poi Che lascia Fa più danni Della spada Wow C'è la roba In che cosa Davvero Non mi lo sarei mai aspettato Lascia Fa più danno Del Guys Come on Come on Come on Non mi chieda I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home Let the rain Wash away No No C'è il muro Non può passare Il muro invisibile Non può passare Quando vedi questo software Nel negozio di Steam Come farebbe ad ammazzarmi Che c'è la camicia di forza Masticando No perché c'è il mento slogato Quindi nemmeno masticando Come fa Vediamo come fa Ma vai a cagare Col mento slogato Hey man Can you talk Hey man Can you talk Ma io Mi chiedi Shut up you fucking kid Please don't talk anymore You piece of maggot Shut up you maggot You fucking kid Good school Piece of shit E iniziamo questa bella partita Con insulti Con i bambini Eh vabbè Via di te Che mi devo curare Anzi no Non andare Meglio che Ti andiamo fuori Ok vai vai Entriamo 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 Tu entra Entri Entri Eh eh buai Uno qua Uno qua Uno qua Uno qua Vai vai Uno nell'angolo Uno nell'altro Ma Non tenetevele tutte per voi A caso Completamente a caso A caso A caso Lo chiamo sto coglione Man you have a nice moto man Che ho fatto E l'ho vista E l'ho vista E l'ho vista E l'ha 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 vista Thanks for the bike man Nooo No no man No more Sorry sorry man Sorry sorry The bike is mine man The bike is mine Noo It's my bike Man give me my bike Nooo let them let let Rob Duro go Leave Rob Duro you can't arrest Rob Duro man Dammi 2800 dollari Va che così mori pari No man Sì Let Rob Duro go You idiot E sono scappato Con la foto Davao Bodgrappi Ma che cosa deve fare Già dalla faccia si capisce Che è uno Che poveretto Un po' in ritardo Sveglia Bravo Poi va camminando Eh Cammina Eh Cammina Che non si sa mai Sì c'è il Viola Palace Quindi è sicuro Che Palace sia libera Ma non si sa mai Magari ci sono i fantasmi Vai 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 Piano Vai tranquillo Il mio nome è Giovanni Giorgio Ma tutti mi chiamano Giorgio Beh, ora potrei avere un po' di chance Una sola possibilità Pensi davvero Che io non sappio Cosa tu voglia fare Non me ne succeda Il copo Mi sei sicuro? No No Non pensavo che tu usis Utilizzare il loro vero potere Ma ti servirà poco Lucio Simone Sono un bimbo merda Perché se qualcuno L'attengia diversamente da me Lo etichetto come hater Scrivendo il suo commento Lo pubblico in un video Patetico Molto più patetico È che tu Mio non caro Lucio Simone Non sai leggere Sono un bimbo merda E se qualcuno mi ha detto L'ho etichetto come hater L'ho etichetto come hater Hashtag Non sono haters Ma lo scrivo per avere più visibilità C'ha ragione L'etichetto come hater Cazzo No, no Ha ragione Ha ragione Ho detto Devi stare in silenzio È la buona volta Che vero anche con il mio smorg Oh che bello Vero Krik Cozio Una granata in testa Gli è arrivata Solutamente chiaro Solo Ma che cazzo è successo Tra l'altro Tra l'altro Ma che cazzo è successo No, dovevi fare sta cla... Il rosso mente Amico mio Stai scaccendo gli asteroidi Giusto Ok, io voto Mancuso No, no Secondo me è il rosso mente No, il rosso sta mentendo Io voto Gorbi No, perché sto mentendo Stai mentendo Stai mentendo Secondo me è Gorbi No, no, è Gorbi No, no, no No, no Il rosso mente Il rosso mente Io ti giuro Grillo Se la prossima volta Sono impostore Che stai due testi Il primo a cui miro Stati attenti a perna Secondo me È perna Grifato Che schifo Nel dubbio Il rosso mente L'amico dietro È morto È morto È morto È morto Ah, ok Non è vero Non è morto È difficilissimo Eh, a me l'ho fatto fuori Sto bastando L'ho fatto fuori Io non capisco Dove sanno in questo momento Quelli che guardi Che fero Che guardi in giro Esatto Quello intorno Ammi il paesaggio Chiudi, chiudi Perché non chiudo la porta E io mi sto per addormentare Sei così scarso Marcio Che ti addormenti a guardarti Eh, Pietro Talmente scarso Che ti addormenti da solo Cioè A livello superiore Non è che addormenti Chi ti guarda Perché sei scarso Addormenti pure te stesso Capito? Riccardo ha smesso Di giocare a B&D? Sì Si è addormentato Si è addormentato Così Immagino Riccardo Così che stava No Narrando C'è uno scheletro Che ha Degli occhi Particolarmente Particolarmente Guarda che non stavano Conciuto in D Stavano sommente Parlando Così discutendo E poi I giocatori Eh Sì Vai avanti Lui Bello che C'è Come c'è Parli tutto te Dici tutto te Ma perché ti sei dato incontro al cannon Sei stupido Sei stupido Ma perché vai incontro al cabbio Ma che senso ha Che palli È iniziato con un gaga Che è un coglione C'è il verme Che gli ha mangiato il cervello Riccardo Perché si addormenta a caso Ma magari che può Può succedere Se si stanca Immagino Riccardo Che così Sta lì che spiega Lì proprio Si mette Adormentarti La gente che gli chiede E allora Allora E poi Ci sono due scheletri Con degli occhi Particolarmente Particolarmente È bello che stai facendo Tutto quanto Tutto quanto te da solo Quindi Complimenti Vado full Rambo Vado in full Rambo Niente Mi ha flashato Ma ho distrutto Il full Rambo Ha funzionato in parte Va bene Io vado Vado full Rambo Se uno Vede Un foglio Con un foglio Un foglio Con scritto Con scritto questo Mi piace molto Sì Gran potenziale Bel concetto Fatto molto bene Divertente Continua Veramente bel lavoro Mi piace tanto Sì 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 Gran potenziale Gran potenziale Molto bello Grafica bellissima Bellissimo Bello Mi piace Perché è normale Oddio Cosa Ma che cazzo Stai volando Non ha caricato l'aereo Che cavolo Che cazzo è Che ha messo quel punto No 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 Ovviamente lo scemo Va lì da solo Ma certo Perché non me ne frega Un cazzo di andare In quel punto di merda Ma ancora fotti Di che ti devo dire Incazzatissimo Fotti ti ti fotti te Perché sei da solo Infatti vedi Sei appena morto Guarda che Che cazzo non mi ha creda Beh stai Stai giocando a Warzone In cui l'obiettivo è vincere Se non te ne frega Perché giochi a Warzone Ci ho capito che devi rispondere Credere di essere figo Però dai Un minimo di coerenza Bisogna averla dai Romano Dagli animali Non vado a dare le fatti Dalle altre persone Io sto giocando per divertimento Stai giocando a divertimento Non per irrastati Beh ragione Beh se visiti divergenti più Tututututì Tututться Gira, ti tira il C4 Attaccamelo, attaccamelo Vai, 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 vai Vai addosso, vai addosso Scudo Fallo Vai, vai, vai Vai sbordere, vai sbordere, vai sbordere Allora, vai, vai Kamikaze Kamikaze, suicidio Ti sottoporrò ad una partita di prova Per vedere se sei abbastanza bravo Da poter entrare nel nostro team Sarà decisiva per capire se potrai entrare nel mio team FNCHJKERT45CV231PRO Ti do qualche consiglio da prima di partire Perché comunque bisogna essere bravi Per poter entrare nel mio team Non assistiamo chiunque Devi andare con Fafar e Ripulitore Che non c'è Ripulitore Come non sei Ripulitore? Eh non so, per questo qua racconta il mio fratello Vabbè Bauer è stato un piacere conoscerti Purtroppo la faremo sapere Questo team Non accetta gente che non ha Ripulitore Perché Ma ce l'ho, ce l'ho nell'altro profilo Forse ce l'ho Prova con l'altro profilo Perché se no guarda Le dico già subito Che non possiamo accettarla Poi mi raccomando Sentex e Stordente Ce l'ho, ce l'ho Mi sembra chiaro Però comunque Per sicurezza L'avviso Signor Bauer Ah guarda Se puoi mettiti la skin Nera del tizio Che puzza E che non si fa la dosa da un mese Purtroppo la faremo Purtroppo la faremo Purtroppo la faremo Cambi il game Tu asso Ti devi andare sul toilet Tu f***o Purtroppo la f***a Purtroppo la f***a Purtroppo la f***a Ti compiti Me ne inviate Minazzi il secchione Che cazzo Che è sta cassa La vedete anche voi Che è sta cassa Ma ta ma non è giusto Mi hanno scammato Quando la compri su Amazon E quando la compri su Wish Ma stai zitto scemo Tu gioco una favola È una favola Una di quelle che racconti i bambini Per spaventarli Te manco sai cosa sono Le storielle per bambini Ma che cazzo c'è A caso A caso Io non so cosa la storielle Cioè io non A caso A caso Che insulto profondo Ho ragionato Incredibilmente Pesante Quindi devi stare proprio zitto Ev Che argomentazione Vabbè Facciamo così Tu mi insegni qualche storiella E io ti insegno Ad avere un po' di autostima E non a lasciarti like da solo Che ne dici Perché ci hai lasciato like Cioè come vedete 28 secondi fa Aveva già un like Se tu la pensi diversamente Allora sei uno scemo Ok soprattutto Vuol dire che non conosci Le storielle per bambini E quindi devi stare proprio zitto Hai capito Se non ti piace a me da 2 Non conosci le storielle per bambini È tutto collegato Capito Se non ci arrivi Perché sei scemo Perché non ti piace a me da 2 Oh my god I'm so sorry Oh my god What the hell is happening It's so cute guys I'm so sorry I forgive you man I forgive you I forgive you At least you say sorry man Oh my god What the fuck are you doing green Oh my god What the fuck are you doing man You hit the same core For green man What the fuck are you doing It's at the 10th scene My helper What are you doing Sorry man Sorry Kill me Kill me Kill me Kill me Kill me I see guilt in your eyes I see guilt in your eyes I see guilt in his eyes I see guilt in his eyes You're guilty so it's okay He's a good guy He will decide what he wants I see guilt in his eyes Oh my god La ghana del bosco triumferà Minerva del bosco triumferà Come passerà C'è scherzi Increoled In RIP Before I'll opportunity difficulty Of course Hello TV ho layouts it's only un riscaldamento, ma... COSAAA? Non c'è... Procifrede, ho morto il nuovo Allora abbiamo perso la partita Vabbè, ormai è finito, ormai è finito Abbiamo fatto un riscaldamento Allora! 大 battaglia Allora! 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 e io e io e io e io ZARA! Oh! Man, please shut up! I can hear nothing, man! Change microphone, please! Please, man, mute yourself! Dai, non ti la faccio questa dire! Bella la grafica di Warzone! Ma che è? Ma che sta succedendo? C'ho qualche problema con la grafica in questo momento Ma prima di iniziare iscriviti al canale, attiva la campanella Anche lui, che palle, va fanculo Alcuni youtuber che fanno i tutorial fanno anche Art Attack Come Giovanni Mucciaccia A caso, che 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 Alcuni imparano a fare i tutorial seguendo altri tutorial Poi comprano l'attrezzatura per fare il video Andiamo dall'attrezzatura! E attrezzatura Qua è un campo aperto Eh, dove andiamo? Ehi! No, se ci uccidi No, andiamoci Ma cosa ti uccidi? Ma andiamo avanti Ma davanti dove? Se ne andiamo in un posto migliore Mi immagino! Il paradiso! Ma perché dovrei uccidervi? Ma perché dovrei uccidervi? Ti dai le spalle! È vero! Oh schia, I think! Ma ve lo spimbo È proprio fiero! Frega nulla! Capito? Vai in giro! Di spalle! Ci ammazza! Cosa ti ho fatto? Ho detto che c'è un... Neeeeeeeeee Neeeeeeeeee E va! Andiamo con Valora Non val dopo Non val prima Valora Si vince Si vince Si vince Si vince Bisogna impegnarsi Andiamo! Corriamo in giro Allora non importa Se ci sono troppi nemici Se hai paura di animarmi Tu vieni Corri Si rischia sempre Si rischia sempre Non si fugge mai Anche quando Anche quando davanti agli occhi C'hai la morte Il giocatore in porta di te Sai che perderai Tu lotterai fino alla fine Non scapperai Hai ragione! Hai ragione! Hai ragione! Vino alla fine! Andiamo! Pensavo che il grande Talos Potesse fare di meglio e di così Ora basta Puoi morire bene Assaggiare il vero potere C perchè è sprofondato nel terreno DAIIIIII NON SALTAAAA NON SALTA DALL'INIZIO NO Senti LEVATI DALLE PALLE VELEVATI VELEVATI I KNOW HIM IN REAL LIFE HE WANT TO GRIF THIS MATCH Yeah I can smash the grief He want to grief man Don't listen I wonna do nothing bro I know him in real life we are on discord I DO NOT KNOW WHO THE FUCK YOU AM Yellow! WHO THE FUCK ARE YOU DOING?! HAHA! ZIIIIII Sorry man my keyboard is broken I have to change it man BUT I THINK IF YOU KICK ONRANGE THIS KEYBOARD WILL START WORKING YEAH KICK HIM Ah siiii Il mio keyboard sta lavorando ora Si, è un miracolo Green, vai qui Vai qui Vai qui qui Ahahah Che cosa originale, incredibile C'è ancora il drago in sottofondo Quale drago suuu 1 3 Visto che c'è lo stesso attore del film porno L'abbiamo visto insieme Dove c'è il tizio che si Si masturba con la pesca Questa la tengo però Hi guys How are you? I'm from your mother pussy Ce n'ha Ok Incazzato The Dark Souls 2 Vaffanculo va Skyrim No Skyrim No, io vado via No, no Dai Vaffanculo te quel cazzo di clown Devi correre come un deficiente Un corridoio come un deficiente che corri per prendere 2-3 pallini E' una faccia di merda che ti segue E poi te la spawna davanti a te così Vaffanculo 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 Striker of horror Per me ha finito di fare dei rossi fino adesso Arrivi un bouquet No, no Intanto ci guardiamo video di trattori Ecco vai mo Allora io adoro Vedi? Vedi? Questa gente che non fa un cazzo dalla mattina alla sera Vedi? Basta Non fa un cazzo dalla mattina alla sera O va al mare O va a Serbia E la sfida La sfida l'incubo Se no Dai Oblitto Questi due coglioni Dai Perché c'è Filoner che ha commentato Local disk Program file Local disk C Program file Z86 Steam Steam apps common Proprio preciso Quando si sa dai La palavra Skills This folder is empty This folder is empty Usb Cests Go Z Emmons Biop Anime Sprinkle contingent Ingredient Is Di Senti Così Senti Kes Super En Musk Poi Che Ma che cazzo sta succedendo? Ma siamo graffiti in giro? Siamo davendo parkour in giro così Bellissimo Bellissimo Intanto ci appare un bel Marco Youtube chiocciola Marco Poi in realtà il canale si chiama Raizocram Marco, Pietro, Francesco, Lorenzo Wow che nomi accattivanti Cattivo, duro, grosso, no? Grosso, muscoloso Sono dentro Hands in the air, buddy Aaaaaaah Aaaaaaah Se ho fatto una tincella, no, se ho fatto una tincella Eh, shit you not, he just ran into the cell And he's now locked in No, no, he's back out Where is my friend? Where is my friend? I have to help me He's in a discord? Where is my friend? If you help me and rescue my friend I will make you a powerful man I have contact with Mafia And you're gonna tell me how you knew he was here I see a white car enter here With him inside And it took you fifteen minutes to run through three doors? I don't think so Because eh I'm a powerful man I suggest you leave I also suggest you get out of discord Or whatever form of communication you're having with your friend Otherwise you're gonna get in We are not in discord I also suggest you that you have to listen to me And you I suggest you to become a powerful man I have to listen to Jeff shit you're dressed though Respectfully Yo, what's up? I'm gonna put you in cuffs Shut up, motherfuckers! No, I'm not in defense! No, leave me alone! Leave me alone! Leave me alone you idiot! My friend is in danger! Who's in danger? Where are you? Perchè cars? Prendi quel fattissimo loadout Prendi quel fattissimo Dai, finissimo Sbaglio la storia da cagliare poi Dai, ti ammazzo l'anima Dai, venite, venite Ormai è successo Joina, ok Dai, dai, io credo Io credo nella mia moto Ok Siamo nel petto con la moto Noooo Aaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaaaaah Aspetta, saltiamo dalla finetta, vieni Vai Uoooooooooooooo Uoooooo Oddio Che cosa è successo? Ho fatto il salti mortale Uoooooo Apri la porta, apri la porta Ok, ci siamo Abbiamo fatto un volo I'm my name is fucking idiot No No Quello è già lì con le mutande io Vai 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 Dai No dai Fli Si è un bastardo Abbiate pietà Pietà No Ne ho un salto Cosa Clicato spazio Non me ne frega un cazzo Io non voglio saltare Io non salto Basta Vai a fare il culo Ha giocato a pallonetta Con l'altro Ciao ragazzi Ciao C'è Ehm Sì È bene Fuckin'idia Shut up Fuckin'idia Ma il video su YouTube Che mi ha inviato Che è? Hey ragazzi Sono in New York City Just hangin' out Wow Che bello Che hai Buon andare anche io Non serve di Minecraft a caso Un prize Tra l'altro Dove non fai un cazzo Se non scavare 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 Senza un reale motivo Bellissimo 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 Don't stop mute Till we're legends Don't stop墓 Don't, stop的 Don't stop mute Bye pal Bye pal Oh Call Me Byehl Don't, stop mute Don't drop mute Don't stop met We're legends I'll break my bones Il ritorno delle mutande del leoncino C'è un problema con le mie Qual è il problema? No, è che sono marroni indietro e gialli davanti Vabbè, dai, si vede che sono fatte così, dai, non preoccuparti Due mutande in testo Pulite però, tranquilli Sono pulite Sono pulite Oh, queste mutande sono troppo larghe, sono troppo grosso, mi sembra una più La cosa più importante di questo video È la scelta delle mutande Ma vanno, schifo Ah, non vedo un cazzo Ok, ci sono, ci sono, ci sono Hello, Tim Fuckin' Idiot Sei not a fucking idiot Let's go Let's go fuck yourself, man, fucking idiot Non è, please go dead in real life and find a life Non è che dice, dai Vai a morire nella vita reale e poi cercati una vita Nella serie c'è, io devo ritorno Prima devi morire e poi devi risuscitare per cercarsi un lavoro Per andare a lavorare in miniera 25 fps 25 fps Nemmeno, nemmeno Oh, non parlare Perché parli che sono Il, il Oh, è pausa Non parlare Cioè, nemmeno Cioè, la cutscene va avanti anche se il menu è in pausa Io veramente non Oh, nemmeno cyberpunk con RTX ad ultra Mi va a 25 fps Quanto può essere bimbo minchia lo sviluppatore di questo gioco Guarda, c'è Putin Guarda, è tutto schifoso Guarda anche su YouTube Mettiamo, non so, un euro e ci facciamo un sacco di soldi Così poi ci andiamo a comprare la droga Ci andiamo a prendere le sigarette Oh Ogni regalo è un achievement Ma vai a studiare tecnologie chimiche, pezzo di merda, veramente Dai cazzo, per una volta che sono serio Che ti dico che non registro Sto elevato Ma vaffanculo pure a te Quanto fai? Sì, veramente, vaffanculo pure a te Il bello è che lui sta già registrando Io non sto Io ti ho detto che non registro Ti posso fare una domanda? Ma quando parli, tu, per caso, ti credi? Perché non dovrei credermi? Per una volta che sono serio Ma la seconda si andrebbe vicina Avventure piccanti Madonna Che tipo di contatti? Nel senso che si faceva Sì Hai 18 anni? No, mi dispiace Dove vivi? FBI, o no Ciocco di merda Scorciò Usa Ma che? Ma siete scemi? Ma cosa stiamo facendo? Tu che registri pure? Ma no, magari potrebbe non essere quello che pensiamo noi Ma siete mazio? E' morta E' morta E' morta questa E' due cazzo da morti In modo incredibile O vero? Nooo No, no, no Grazie, è viva, in realtà È viva, è viva E lei è consapevole? Sì, sì, sì È consapevole? Mamma mia, quanto è consapevole È consapevole È consapevole È consapevole È consapevole Sì, sì, sì Pensa, avevo detto che era consapevole Al primo posto Killer Madonna Killer Fabrizio 96 Killer Gianluca 84 Sono Killer Mario Sotto Mario Sotto Killer Mario Qua, sì, sì, sì Io ce l'ho Hai una corazza Perché? Perché questo gioco è un FPS e l'obiettivo è vincere Vincere ma con astuzia, non vincere così Beh, astuzia, infatti pushiamo con astuzia, non siamo a camperare Le salsicce le mangio quando faccio campeggio No, no, vuoi venire con noi perché sennò non c'è alcuna astuzia in pushare in due Venite anche voi Non ha senso star lì a camperare Sì, fratelli Ma si vince uccidendo gli avversari, non camperando in una casina L'ho capito, ma non è una casina, è l'astuzia questa L'astuzia, l'astuzia del stare fermo a non fare un cazzo Dai, giochiamo, su Eh vai fratelli, vai a pushare, vai Chi ti sta obbligando a stare qua? Eh tu perché sennò muoio, sento che siamo due contro quattro Eh, che ci posso fare? Io non ci vengo Se ci vuole andare, ci vuole avere voglia di sperare Allora, se io dovevo camperare, mi prendevo il cecchino, fratello, il cecchino non ce l'ho Che stai facendo, scusa, non stai camperando Io sto aspettando la safe dove si chiude Beh, perché qua non si chiude la safe Non scusa, anche qua si chiude la safe Ma che cazzo, no, raga, ma con voi è possibile Ma che cazzo? C'è Ma perché? Cosa? What? Avete qualcuno di voi, ha chiesto di farsi pisciare addosso Non lo so, l'inglese lo conoscete un po', no? Sì, non lo so Vi siete mossi con troppo astuzia, ragazzi Dovete avere un po' più d'astuzia, ragazzi, non ha funzionato Mi vogliamo avere il culo Ragazzi, un po' più d'astuzia, su Bene, ma te la posso dire una cosa? Ma perché non ti sciogli da solo, non è l'acido? Eh, non è l'acido Se me lo dai te Ah, fratello, ah Ora non pericogliono il ciocco, vedi quello che ti fa Ognuno gioca come cazzo i desideri Eh, gioca, io lo direi più a te, perché tu che amperi non stai giocando Ma, ma, gioca, non rompere le palle E che è quello che sto facendo, grazie Eh, vai, non rompere la minchia, allora, vai Eh, ma io sto sto dicendo che dovresti usare un po' più d'astuzia, zio Ma io d'astuzia la uso quando voglio io Se mi salva qualcuno, se mi salva qualcuno Eh, se giochi d'astuzia, sì, ti salvo Eh, sì, no Oh, fratello, fai, 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 fai Oddio, addirittura, adesso Ti fai incazzare uno su un gioco Su un giocchino come Warzone e devi augurellili la morte No, ma fa male, ti chiedi me Sparati, fratello, tagliti nelle mele Addirittura Beh, è una persona molto matura, direi Ma voglia Che, però, non usa molto astuzia La gang Siamo Rob Duro! Rob Duro! Corri! Rob Duro! Rob Duro! Rob Duro! Tu puoi fare il Rob Duro ragazzi! Rob Duro! Rob Duro! Rob Duro! Rob Duro! Oddio! Rob Duro! Rob Duro! Rob Duro! Rob Duro! Ma come salta? Ma che è? Fa la dub! Bex! Rob Duro! speak Italian? no fra è vero non ho schippato io sono qua ma non ti ha schippato lei ma lo sai che League of Legends è un bellissimo gioco no no seriamente League of Legends non è brutto come gioco League of Legends è una merda sicuramente te mi quadrai così che io parlo e ti velocizzato e poi dirò alla fine League of Legends è una merda e mi espliciti quelle parole non lo fa ancora però League of Legends ha su per su io mi immagino che mi metti velocizzato a merda io ti ho chiesto di fare una partnership una partnership ma quali partnership? ho preso una per me il raccore e sarà quasi da loro fine cosa? avevo dimenticato l'indirizzo IP ora so dove abitano cosa? ora so dove abitano arriva a casa mia chi vuole venire a casa di Fleezy la congrega della pestata anonima no e me lo farò neanche io così è un po' lunatico penserò a qualcun altro molto più potente di tutti noi oddio no cosa cosa? non dirmi no ci penserà di non punirmi arriva Zeus con il fulmine ci pensa lui vedrò quando lo vedrò in ginocchio che senso quando lo vedrò in ginocchio si è dimenticato che ho un corso avanzato oddio oddio e va neanche il computer c'è il computer della mamma il telefono che non funziona l'audio però fa un corso di informatica e quindi attenzione devo aver paura mi vedrà in ginocchio eh io sarò il tuo amico vedo che hai bisogno di rispetto non mi scassare il cazzo perchè sento lontano migliore che l'accento italiano o ti vai a cambiare ora subito ma io sono Rob Duro ma io ho l'italiano origin quindi tu mi capisci alla perfezione ma non riesci a parlare una cosa quindi o ti vai a cambiare ora o ti vai a cambiare ora guarda Rob Duro tu idiota tu non ti vai a cambiare nooo da qui ancora oddio siete tanto grandi venite su discord ne parliamo come adulti come adulti su discord faccia a faccia quella webcam attiva veramente fate schifo come giocatori nooo queste sono cose da adulti ma andiamo ad approfondire qua c'è un link ancora possiamo parlare anche su discord ma questo qua cerca di parlare con la gente ehi gianni gianni l'hai visto ho visto che è saltato ma poi è scomparso devo di aver essere andato non lo so però anche a te piace muovere i piedi si anche a me piace muovere i piedi guarda è bellissimo eh da quel senso di rilassamento destra o sinistro destra o sinistro destra o sinistro perchè tu lo stai inseguendo ah credo per il stesso motivo perchè voglio il suo cazzo eh esatto anch'io lo seguo per quel motivo lì esatto e infatti lo seguo anche io per quel motivo lì perchè come vedi non ha nulla in quella mazzare mutante neanche come te magari se gli prendo il suo cazzo dopo posso iniziare a fare qualcosa di interessante però anche se c'è un cazzo da fare qualmeno mi masturbo ma di cazzo lui ce n'ha solo uno beh possiamo dividerci la metà funzionare lo stesso no? eh sì 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 l'agricchis è gaga di nuovo ah 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 e con un cos'è eh? ah cazzo è fatto con windows movie maker ah fatto con windows movie maker ah chi è sta roba? chi è? chi è? c'è sta musica così super che sorriso che vive quando vai a sinistra 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 ecco poi arriva arriva il genio arriva quello il paladino della giustizia l'eroe degli dei che scende sulla terra per chiarire non chiaribile provaci tu a creare un videogioco e comunque a me piace solo da migliore a qualche cosa ma il resto è bello si si è tutto fantastico provaci te a creare un videogioco ma è un videogioco è un videogioco è un videogioco alleluia guarda si stava ancora in alto seconda all'ultimo momento stronzo che pale ma chi è quello stronzo che non accetta? grazie 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 per il gentile ma non è vero ma ti sei tippato ma che è successo? ma non sei tippato ti sei tippato ti sei tippato ti sei tippato siiii ha lagato ha lagato ha lagato hai capito? hai capito? ha lagato eh si si è si si perché non ci ho pensato hai ragione 3 ore del canale questo video riassumerà il canale è un video fatto apposta ideato per far capire per dare una prima impressione alla nuova persona che entra in questo canale far capire quello che porta un po' meno la qualità di come lo porta quindi è proprio pensato godiamoci il riassunto di questo canale una cosa serie cosa serie? vorrei dire una sola cosa ma che cazzo è? ma hai 8 secondi guarda Tomb Raider che vera qualità guarda gli altri ma che train è nel canale eh? sono come ha visto i giochi che porta e basta la prima impressione hai un'impassione di merda la impressione è che non ci ritorneremo mai più nella mia vita che un'impassione di merda che un'impassione di merda speak Italian andiamo e basta e basta posso giocare alcune canali si ok posso dire qualcosa con te prima? ti f***i no 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 ma come cazzo ha fatto prima lui uccide ti f***i sentiii ma vai a fare qualcuno va ciocco dei c***o fai c***are ahahah magari sei tu che fai c***are nooo ora mi blocca questo parlo ma chi ne ha avvicinamento ma chi sei per parlare porto dio ahahah sentiii sei meritoabile quanto c***o parli porca ahahah sentiii fai mi incazzare basta ma lasciami incazzare basta vai vai continua è troppo bello ma sto smaltando ah è arrabbiatissimo eh scusate se volete vi iscrivete al mio canale youtube che si chiama tutti fazzi per leo per favore ricambio pure se volete ma mi prego abbiate pietà abbiate pietà come se non so voi lo stanno torturando con la frusta per favore abbi pietà oh purello iscriviamoci ehm forte ehm 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 che cosa che cosa perchè si torciano di 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 drago di skyrim nooo trek lasciami stare perchè c'è un tra perchè c'è altuin vabbè tra trek e il drago non so che è peggio c'è c'è pure ma che cosa ho visto che è che cosa sta succedendo mi smopponchillando un altro un altro tergiro di skyrim ma che ho più paura di un tergiro di 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 dai che cosa hai vabbè c'è un drago che mi chiede dai dai ti prego dai ti prego dai ti prego ma come ok yeah we have the bomb a new trigger yeah there is someone who can let's go come on let's go baby ma perchè dobbiamo esplodere un like un'ora di fortuna una un'intenzione tutta la vita fortunata 6.770 iscritti per tutta la vita sono fortunato ora tutta la vita fortunata Sono a casa ringiuso da giorni È una guerra ma siamo più forti E proveremo a vincere a tutti i costi A costo di perdere mille tramonti E mi manca abbracciare i miei nonni Tu nel letto di notte che dormi Così tanto avvicino al mio petto Che se chiudo gli occhi dicendo che sono Mi raccomando il campanellino Arriva uno che si chiama cinese dancing Ciao amo i tuoi videos Vorrei esportarli in Cina Se non risponse mi uccido Quali video Scusa italiano What videos A caso Uno fantasma Errore Oh anche se ho preso L'ultimazione lunghissima che mi occupava tutto lo schermo L'ho ammazzato comunque Dai venite Fatevi avanti stronzi Salve Guarda I fantasmi scappano Scappano I fantasmi scappano Uno l'ha lì di sotto È di sotto L'hai visto? Oh l'ho rotto sopra Grande Oh che culo Poi con i bastoni Ma devi saperli usare Cioè non puoi stare qua A caso vai Oh man Cioè non puoi stare qua Cioè non puoi stare qua Oh no no! Nooo! Palle ha fatto qui di nuovo! Sono di nuovo qui, perde! Non farti ucciderlo ancora! No, sto giro non mi posso ammazzare. No, non mi devi vedere, non mi devi vedere, non mi devi vedere! Io scappo dentro l'ospedale. Aiuto, sta arrivando quello con la p... Aiuto, sta arrivando quello! Io sto ancora lottando, no! Io sono dentro! Sto cercando per me, aiuto! Mi stai seguendo! Lo vedo, non ho sentito che sta arrivando! Lo sento, non l'ho visto, l'ho visto entrare! Aiuto, 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 aiuto! Senti i suoi passi! Sto cercando per me! Lo sento, sento parlare! Aiuto, mi sono disconnesso! Sono andato all'ospedale, li sento! Oh, aiuto! Sto aiuto! Non mi hanno visto! Non mi hanno visto! Sono uscito! Salvemi! Salvevi! Dove sei? Sono appena uscito, sono davanti! Sono qui, non mi mi... Siiii... Sto arrivando! Portami via! Scappa, scappa, scappa! Ok dove sei Se siete arrivati fino a questo punto Siete dei grandi Per cui pochi che sono arrivati alla fine Buon Natale ancora e Mentre dormivo i mortali Si sono fatti arroganti Sono sano Knir Il mio signore Alduin Desidera la tua morte Sono felice di accontentarlo Grazie a tutti Grazie a tutti